E parliamo del Solving Problem, un seminario su questo tema si è svolto presso la Scuola di Amminazione Pubblica di Villa Umbra a Pila, vediamo di che si tratta nel servizio di Marcello Migliosi. Si è tenuto a Villa Umbra di Pila alle porte di Perugia un seminario sul Problem Solving. Il Problem Solving indica l'insieme dei processi atti ad analizzare, affrontare e a risolvere positivamente situazioni problematiche. Sviluppare la capacità di risolvere problemi, prendere decisioni, acquisire la conoscenza di strumenti per affrontare problemi sono gli obiettivi prefissati per i 30 partecipanti di questo corso di due giornate. Più precisamente indica l'insieme dei processi atti ad analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche. Oggi siamo qui a questo corso che riguarda il Problem Solving perché credo che sia necessario, interessante ed importante il modo in cui si affrontano i problemi e soprattutto l'ottica molto allargata sul quale lavorare per la soluzione dei problemi.